Benvenute amiche, siete pronte a scoprire cosa succederà dal 6 all'11 marzo in Terra Amara? Yilmaz condividerà con Zuleyha e Adnan un momento veramente speciale della loro vita. Demir scoprirà che Zuleyha è fuggita nuovamente. Fekeli verrà minacciato da Unkar. E la nuova arrivata beice inizierà ad indagare sul matrimonio della nipote Mujgan. Zuleyha vivrà l'incubo peggiore della vita, Demir uccide Yilmaz. Nella puntata di lunedì vedremo la famiglia Aqqaia alle prese con le pratiche burocratiche dopo la tragica morte del suocero. Gli Aqqaia si ritroveranno un'inquilina nuova, beice decide di andare a vivere con la nipote Mujgan e Yilmaz inizia a ricredersi sul conto della zia di sua moglie. Ma Yilmaz ha altro per la testa. Infatti è tormentato dal pensiero di non essere riuscito a parlare con Zuleyha e aver lasciato la loro conversazione a metà. Ma prima di iniziare la visione del video, volevo ricordarti di mettere un mi piace al video e se ti va iscriviti al canale per ricevere news ed anticipazioni di Terra Amara. Ma riprendiamo con le anticipazioni. Demir dà il carcere intima alla madre Unkar di non far rinchiudere Zuleyha in casa, come se fosse in carcere. Insomma deve farla vivere tranquillamente e non perennemente sotto controllo. Nel frattempo Zuleyha e il piccolo Adnan si recheranno in carcere per vedere Demir e mentre stanno aspettando il loro turno nella sala d'attesa vengono visti dal PM Julide. Intenerita dalla situazione, il giudice si offre di ospitarli nel suo ufficio poiché ha notato subito l'irrequietezza del piccolo, data la situazione particolare. Arriverà addirittura ad occuparsi del piccolino proprio per far parlare tranquillamente Demir e Zuleyha, insomma vedremo dei cenni di tenerezza da parte del giudice. Durante il colloquio, Demir dirà a Zuleyha che le cose d'ora in poi cambieranno. Lei non dovrà più vivere come una prigioniera e vedremo i due accarezzarsi teneramente. Al rientro in villa un fatto sconvolgente turberà la tenuta. Il piccolo Adnan sta giocando nella sua stanza, quando all'improvviso uno scorpione sbuca e tenta di pungere il piccolo. Fortunatamente Zuleyha si accorge della situazione di pericolo e riesce a salvare Adnan dallo scorpione. Sebbene non sia successo nulla, la paura è stata davvero tanta, tanto che sia lei che Uncar decideranno di trasferirsi temporaneamente nella depandance. Mentre il resto della tenuta si occuperà della disinfezione degli ambienti. Nel frattempo, Giulide si recherà in ospedale per ritirare i referti di alcuni esami, dopo l'episodio di svenimento. In ospedale incontrerà Sabatin che la rassicurerà sulla sua situazione di salute e che non deve preoccuparsi. Nel frattempo, il detective informa Uncar, sappiamo dove si trova Sherman e immediatamente partono insieme dalla depandance per trovarla. Zuleyha si ritrova sola con la nonnina e Adnan, ma presto la nonnina inizia a sentirsi male e il suo stato di salute peggiora a vista d'occhio. Zuleyha decide quindi di portare la nonnina all'ospedale per farla visitare dal medico. Per fare ciò, fa salire la nonnina sul furgoncino e anche il bambino, che non può lasciare da solo a casa, viene fatto salire e messo seduto dietro nel veicolo. Nel frattempo, Yilmaz arriva alla depandance per parlare con Zuleyha, ma alla vista della porta inizia a pensare a Musgan e si ferma. Durante il tragitto per raggiungere l'ospedale, Zuleyha si sente male e si ferma al bordo della strada per rinfrescarsi ad una fonte, ma quando torna verso il furgone si accorge che la nonnina è sparita e c'è solo Adnan in macchina. Zuleyha inizia a cercarla in modo frenetico, ma all'improvviso perde conoscenza sul ciglio della strada. Per caso, Yilmaz, che stava guidando la sua auto, nota l'auto di Zuleyha ferma sulla strada e la trova svenuta a terra con una ferita sanguinante. Senza esitare, la solleva tra le braccia e la mette sulla sua auto, pronto a dirigersi immediatamente verso l'ospedale per cercare di arrestare l'emorragia. Quando Zuleyha riprende conoscenza, chiede immediatamente del suo bambino e dove fosse. Yilmaz viene colto di sorpresa e non sa proprio come rispondere. Zuleyha gli ricorda che il bambino si trovava nel furgone, quindi Yilmaz torna al punto dove era parcheggiato il veicolo per prenderlo, ma trova solo il furgone vuoto. Disperata, Zuleyha chiama a squarciagola il bambino, ma di Adnan non c'è traccia. Yilmaz lo vede seduto in mezzo alla strada, ma nel mentre sta passando un camion che si avvicina pericolosamente. Senza esitare, Yilmaz corre verso il bambino e lo porta via dalla strada giusto un secondo prima che il camion lo schiacciasse completamente. Mentre Zuleyha corre per raggiungere il piccolo Adnan, si ferma e grida di gioia quando lo vede. Lei e Yilmaz si abbracciano stretti, scaricando la loro tensione. Piangono liberamente, inconsapevoli che insieme hanno salvato il bambino. Successivamente, insieme al figlio, i tre protagonisti condivideranno un momento unico, quasi fossero una famiglia. Nel frattempo, la matriarca cerca di convincere Sherman a ritrattare la sua precedente dichiarazione. Sconvolta, Sherman chiede una grossissima somma di denaro per fare ciò che le viene chiesto. Unkar, arrabbiata, torna a casa e scopre che Zuleyha è fuggita di nuovo. Chiede aiuto a Fekeli, ma lui si rifiuta di credere alla fuga della ragazza. Nel frattempo, Zuleyha arriva in ospedale in pessime condizioni, ma il dottore farà il possibile per aiutarla. Quando si sveglia, Zuleyha confida a Sabatin che vuole dire tutta la verità di Yilmaz, ma ha paura della sua reazione. La voce della fuga di Yilmaz e Zuleyha si diffonde velocemente. Ghaffur, parlando con Atip, lo informerà della notizia. Atip sapendo come utilizzare l'informazione appena ricevuta si recherà in prigione da Demir, facendo infuriare quest'ultimo. Infine, in un incubo terribile, Zuleyha rivive il momento in cui lei e Yilmaz vengono separati. In questo incubo Demir ucciderà Yilmaz e Zuleyha si sveglierà molto turbato, tanto che questo sogno la perseguiterà anche nei giorni seguenti. Per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate iscriviti al canale. Per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate iscriviti al canale.